eccoci qui ragazzi buongiorno buon inizio di settimana allora allora vi avevo detto che nel fine settimana ci sarebbero state notizie di mercato importanti e così è stato è stato allora prima di tutto c'è da registrare il rinnovo di contratto di esharawi finalmente fino al 2025 più opzione per un altro anno quindi il faraone rimane a roma e sono stracontento le cifre non sono state ancora rese note però cambia poco ragazzi era importante che il giocatore rimanessa a roma perché comunque è un giocatore che può farci ancora molto comodo quindi il faraone rimane a roma per i prossimi minimo due anni ieri a sorpresa praticamente la roma chiuso con l'ajax per tayirovic sulla base di 8,5 milioni bonus compresi per il cartellino in maniera definitiva cosa che si metterà nero su bianco al termine delle visite mediche che penso effettuerà oggi con i lanceri quindi pro forma perché non credo che ti aiuto che c'erano qualsiasi tipo di problema fisico quindi la roma incasserà subito 8,5 milioni di euro ed è un'ottima notizia perché sapete per con il settlement agreement della roma contro con con la uefa per il finanziario la roma deve fare delle plus valenze entro il 31 giugno per cui ottima notizia a me dispiace perché comunque avrei messo forse un diritto di ricompra del giocatore e la roma avrà anche il 15 per cento di una futura rivendita però purtroppo ragazzi questo è la situazione della roma attuale bisogna incassare subito per far mercato e per fare plus valenze e quindi la roma è costretta da via quei giocatori che ci hanno mercato e i giocatori che ci hanno mercato in casa roma purtroppo sono ben pochi a parte insomma i titolari quindi o i giovani o magari un ibanez o magari uno zaleschi o magari uno spinazzola quindi purtroppo i giovani vanno sacrificati però ripeto io forse avrei messo un diritto delle compre sempre oggi giornata di oggi ci dovrebbe essere l'incontro decisivo con il sassuolo per il passaggio di altri due giovani della roma verso la squadra nero verde vale a dire sia volpato che missori per una cifra completa di 12 milioni di euro anche qui non c'è diritto di re compra da quello che ho capito e forse sul volpato l'avrei messo e penso che anche qui ci sarà una percentuale sulla futura rivendita da stabilire però è anche questa una trattativa che sta andando su un'indirittura d'arrivo distaccata penso dalla situazione frattesi anche se probabilmente può anche darsi di no ragazzi non lo so non lo so vedremo perché comunque frattesi è seguito sia da inter che da juve e quindi la situazione abbastanza complicata con il sassuolo che chiede sempre i soliti 35 milioni e soprattutto la roma incasserà comunque il 30 per cento se frattesi verrà venduta un'altra squadra quindi queste le le operazioni imminenti che porteranno sui 20 milioni nelle casse della roma entro questa settimana che può dire già tanto e sempre sul clivert anche clivert nei prossimi due tre giorni dove si dovrebbe chiudere col bormout con il fulham sulla base di 12 milioni di euro in maniera definitiva quindi anche questo giocatore dovrebbe lasciare roma in maniera definitiva anche perché l'anno prossimo è scadenza per cui tu lo devi vendere per forza quest'anno altrimenti lo perdi a zero e quindi la roma potrebbe entro mercoledì ritrovarsi questo gruzzoletto da 30 milioni con cui dovrebbe pianificare insomma tutte le livelli per il finanziario col uefa e poi dedicarsi finalmente agli acquisti ecco questa è la situazione comunque in casa roma altre notizie di mercato e sembra che murino sia entrato in prima persona con il pari san germain chiamando verratti e come cercando di convincerlo a venire a roma io ragazzi vi dico la verità giocatore di 30 anni giocatore che negli ultimi paio d'anni è nato molto incalando giocatore che penne 10 milioni all'anno al pari san germain io sinceramente ragazzi la trovo un'operazione che non mi convince più che altro per le esperienze negative che ci abbiamo avuto fino ad ora col pari san germain e vedi pastore guainaldo è un giocatore sicuramente di livello tecnico buono verratti però è un giocatore che a me non convince sinceramente vedremo come si svilupperà questa trattativa chiaramente sì sulla base di un prestito come guainaldo dovrebbe essere comunque vedremo vedremo quello che che accadrà insomma anche su questo tipo di di situazione e per quanto riguarda il centrocampo sempre c'è stato un sondaggio del bologna per bove e alla roma contemporaneamente ha preso notizie sul dominguez che se non sbaglio dovrebbe essere uruguagliano centrocampista di fatica insomma del bologna un bel cagnaccio in mezzo al campo non so quanto sia fattibile un'operazione di questo genere magari uno scambio oppure un una trattativa separate però insomma c'è questa voce che è girata su questo interessamento della roma sul dominguez per quanto riguarda la porta i nomi sono sempre gli stessi vado a dire gollini della fiorentina e chakir turco e altre notizie su altri portieri non ce ne sono e probabilmente la roma vuole concentrarsi su altri ruoli più importanti sempre sul mercato sì sì questa questa settimana potrebbero essersi notizie sulle eccessioni di banes e di zaleschi se ci fossero delle delle trattative non lo so dipende molto da da quello che ha fatto pinto in inghilterra la settimana però la settimana scorsa quindi comunque ci sono delle trattative vediamo un po se entreranno nel vivo diciamo se entreranno nel vivo ecco e per quanto riguarda l'attacco su scamacca invece il west m è titubante perché ripeto vuole l'obbligo di riscatto e vuole soprattutto prima trovare un sostituto però questa settimana sarà decisiva anche per scamacca ragazzi perché comunque in un modo o nell'altro si sbloccherà la trattativa sia in positivo che in negativo perché la roma vuole assolutamente entro il ritiro avere la rosa quasi al completo negli acquisti per cui si sta correndo ecco pinto si sta dando veramente da fare sono usciti due nomi di alternativa ieri abbastanza inquietanti secondo me e spero che non siano veri perché tanto di voi ce ne escono tante per cui probabilmente non saranno vere vale a dire mariano diaz del 2 a 0 poi è mariano diaz del real madrid è giocatore che non mi dice niente e moussa tembélé del lione io penso che siano voci infondate queste qui comunque senza nessun tipo di ritorno e poi un'altra voce infondata che girata ieri del solito interessamento per berardi del sassuolo ma io non credo proprio che berardi venga a roma perché per tutto costa un botto secondo la razza secondo me molto più avanti e poi anche la roma non serve un attaccante esterno visto che non gioca con gli attaccanti esterni la vedo veramente una bufala questa qui senza nessun tipo di di serietà ecco e queste ragazzi le notizie pepate di questo inizio di settimana settimana che sarà ripeto molto molto importante sia in uscita che in entrata per quanto riguarda carles perez c'è sempre il selta vigo e il getafe su di lui valutato 8 milioni il getafe il selta vigo ne offrono 5 secondo me a 6 6 e mezzo se può chiude così anche carles perez se ne va via in maniera definitiva e villare invece interessa sempre in serie a la roma chiede 4 milioni non ci sono trattative che entrano nel vivo mentre pesciomuro del vigna ragazzi non ci sono novità sono giocatori abbastanza difficili da piazzare ma sono sicuro che comunque poi pinto riuscirà anche in questa impresa ecco anche perché sono giocatori che non rientrano assolutamente nei progetti della roma ragazzi se ci sono novità ve le fornirò in giornata chiaramente altrimenti ci sentiamo nei prossimi giorni buona giornata a tutti voi buon inizio di settimana e sempre forza roma